Buonasera, ben trovati in questo lunedì sera, buonasera Andrea, come è passato il weekend? Buonasera, lavorando, ma sono sempre contento di lavorare e di ritrovare il mio pubblico oggi per riniziare una nuova settimana molto particolare di Telebari Social Night. Assolutamente, nella prima parte avremo Domenico Castellaneta, capo redattore di Repubblica Bari, che con lui commenteremo tutto quello che sta succedendo a Bari e anche a livello internazionale. Nella seconda parte parleremo con l'avvocato Michele Laforgia della sua candidatura, ma anche con lui parleremo di quello che è successo, perché essendo un penalista può anche parlare un attimo di tutto quello che sta accadendo. Nella terza parte invece? Nella terza parte forse sono nello spazio sbagliato, nella trasmissione sbagliata, ma io voglio parlare di cartoni e di allegria. Beh, assolutamente, fai benissimo. A questo punto lancerei l'RVM di questa prima parte e per commentarlo con Domenico Castellaneta. Nella terza parte e per la terza parte di Domenico Castellaneta. E per la terza parte di Domenico Castellaneta. Ha portato alla memoria le immagini del Bataclan a Parigi, della strage al Bataclan, che segnò un punto di rottura appunto nell'offensiva del terrorismo in terra europea. Sorprende in questa drammatica vicenda, in questa strage immane, il fatto che comunque un allarme era stato lanciato, l'allarme sul sito della Farnesina, perché gli Stati Uniti non avevano dato un allarme riservato, ma un allarme pubblico. Era stato detto ai cittadini americani di evitare i concerti, i luoghi di assembramento. E sorprende che Mosca sia presidiata da forze di polizia a ogni angolo e eventi del genere non siano stati presidiati. È evidente che una cosa del genere può rappresentare il cosiddetto cigno nero, nel senso che possa innescare un'escalation della guerra in Ucraina fino ad arrivare, secondo quello che dice qualcuno, alla terza guerra mondiale. Ora, io non sono così catastrofista che mi vedo la terza guerra mondiale scoppiare a settembre-ottobre di quest'anno, però penso che l'attuale sistema difensivo dell'Unione Europea, è chiaro che tutti quanti vogliamo la pace, quindi bisogna preparare la pace. Però l'attuale sistema difensivo dell'Unione Europea, dinanzi a un attacco russo di qualsiasi altra entità, chiamiamolo così, potrebbe resistere per soli tre giorni. E quindi questa cosa qua va attentamente esaminata dalle nazioni che compongono sia la Nato, anche in previsione delle elezioni americane a novembre, sia della stessa Unione Europea. Ma vedo che nell'ultimo Consiglio Europeo hanno rimandato il problema, in realtà non hanno fatto un bel niente, perché l'unica cosa intelligente, sostenuta per la verità dal governo italiano, era quella degli euro bond per finanziare le spese della difesa, la Germania e l'Olanda non hanno voluto. Quindi i tempi, ahimè, non sono molto buoni. Questo è accaduto, diciamo, adesso a livello internazionale. Cosa comporta? L'ultima vicenda comporta sicuramente la possibilità per la Russia di attribuire la responsabilità dell'attentato all'Ucraina. Basti vedere come hanno combinato i due attentatori che sono comparsi stamattina dinanzi a un tribunale di Mosca ed erano pieni di segni di torture. E quindi non escluderei che nei prossimi giorni qualcuno degli attentatori possa confessare di essere stato armato, ovviamente confessare in maniera coatta, dall'Ucraina. Quindi attribuire all'Ucraina una responsabilità di una tragedia così impattante nei confronti dell'opinione pubblica europea da poter innescare un'avanzata, un'escalation che la Russia ha già nel suo status. La Russia sta avanzando, sta riconquistando i villaggi, ha una superiorità numerica di forze e anche e soprattutto di mezzi soverchiante in questo momento anche a causa delle limitate forniture da parte dei governi occidentali all'Ucraina e quindi potrebbe, con l'arrivo della primavera, dalla bella stagione, del fatto che le strade in Ucraina saranno liberate dal gelo, dalla neve e dal fango, potrebbe effettivamente dilagare. Bisogna vedere soltanto se Putin si fermerà o se vorrà arrivare fino a Kiev. Per questo forse è necessario in questo momento iniziare a stabilire le condizioni per un'ipotesi di negoziato, a patto sempre che Putin lo voglia, perché chi vince solitamente non vuole fare nessun negoziato. Oggi insomma, Andrea, dimmi. Chiudiamo momentaneamente l'aspetto internazionale dedicato a questo spazio di social night e veniamo nella nostra regione. Oggi un fuoriscaletta. Il nostro traffico dei treni è andato in tilt per degli allarmi bomba diffusi in tante stazioni in Puglia. Sì, sembrava una ragazzata, però è ancora da vedere se sia una ragazzata. Nel senso che sono stati ritrovati alcuni reperti nella stazione di Trani che devono essere valutati. Quindi sicuramente, da quello che dicono gli investigatori, non è lo scherzo di un ragazzino. Potrebbe essere il tentativo di un inizio di destabilizzazione dell'ordine pubblico, non solo a Trani, non solo ovviamente nella nostra terra, ma un po' diffuso in Italia. Devo dire la verità, è quello che io temo. Penso che il terrorismo non siano soltanto le bombe o le tragedie che abbiamo visto come quella di Mosca, ma sia anche un sottile minare quotidianamente la percezione di sicurezza delle persone. Il weekend, cambiando argomento, si è aperto in Piazza Ferrarese con Antonio De Caro che parlava sul palco. Ma purtroppo dopo 24 ore è successo il putiferio, anche perché siamo finiti su tutti i giornali nazionali, siti, ma anche internazionali, con poi anche oggi la maggioranza del governo ha tenuto una conferenza stampa in comune. Ma partendo da sabato, un tuo giudizio. Bari stia girando come nome in tutte le tv internazionali come una città a rischio mafia. E questa è la conseguenza di ciò che è avvenuto. La tempistica, ciò che è successo dopo il palco è per un'improvvida, inutile, banale, ingiustificabile dichiarazione del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha detto una cosa che non trova riscontro nei fatti. E quindi ciò ha provocato ovviamente un rinfocolamento delle polemiche. Io però vorrei fare, al di là di tutto quanto, una distinzione. Ci sono polemiche che riguardano le forze parlamentari, e cioè gli esponenti del centrodestra hanno tutto il diritto di fare come hanno fatto la loro campagna elettorale, di chiedere spiegazioni al sindaco, eccetera, eccetera. Le istituzioni, e parlo del Ministero, della Presidenza del Consiglio, dei prefetti, devono fare le istituzioni, non sono organi di parte, anche se sono gestiti nell'attuale momento da partiti che hanno regolarmente vinto le elezioni. Questa differenza è fondamentale. E dico che questa differenza è fondamentale, perché in tutta questa vicenda la cosa più importante è la tempistica. Noi se guardiamo la sostanza ci perdiamo nelle fotografie, in quello che ha detto, nel pentito di vent'anni fa. Dobbiamo guardare la tempistica. Ci sono i 130 arresti, il giorno dopo il centrodestra va in delegazione, non i parlamentari, membri del governo, membri del governo, delle istituzioni, vanno a chiedere al Ministro degli Interni di avviare una procedura non per stabilire le regole del burraco, ma per lo scioglimento del Consiglio Comunale. Dopo 20 giorni, dopo 20 giorni, una tempistica che non ha nessun precedente nella storia della Repubblica Italiana, nemmeno per le città inquinate dalla mafia in Sicilia e in Calabria, dopo 20 giorni vengono inviati gli ispettori che stamattina sono venuti al Comune di Pari e che hanno tutto il diritto di vedere le carte, ci mancherebbe altro. Ecco, è la tempistica che desta, diciamo perplessità, per usare una parola elegante, e questa fretta. Ricordiamo anche che questa relazione degli ispettori arriverà quando ci saranno due cose molto importanti per la città di Bari. Il Consiglio Comunale che si vuole sciogliere sarà già stato sciolto da sé perché i primi di giugno scade, l'8 e il 9 giugno a Bari si vota. La relazione degli ispettori dovrebbe arrivare a metà giugno, quindi quando questo Consiglio Comunale è già morto. In secondo luogo arriverà quando la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aprirà il G7 in questa terra e al Castello Svevo, di fronte a quel Comune che si pensa possa essere inquinato dalla mafia, ci saranno i vertici bilaterali. I tempi sono importanti anche per capire quello che sta succedendo in questa città. Anche oggi le parole che ci sono state espresse, sono state parole del centrodestra, dell'avvocato e vice ministro Sisto, parole molto forti ma con una richiesta anche di chiarezza da parte del Sindaco che poi subito dopo ha fatto una diretta Facebook, raccontiamola alla gente che possa essere anche non informata. Certo, ma la richiesta di chiarezza è pienamente legittima. Io penso che il vice ministro Sisto e i parlamentari del centrodestra abbiano tutto il diritto e anche il dovere di formulare tutte le richieste di chiarezza che si vogliono. Ma quando invece vengono utilizzati strumenti istituzionali, e non mi riferisco soltanto al Ministero degli Interni, se non attribuirei al ministro il fatto di soggiacere alle volontà dei parlamentari, il ministro ha avviato un'azione autonomamente, eccetera. Mi riferisco anche alla Commissione Antimafia, della quale si parla poco. La Commissione Antimafia è un organo di garanzia, è come la vigilanza RAI, cioè sono quelle commissioni parlamentari che nei tempi nei quali c'era una classe dirigente politica di un altro livello, la presidenza veniva affidata agli esponenti dell'opposizione, esattamente come negli anni 70-80, tanto vituperati, la presidenza delle Camere era affidata agli esponenti dell'opposizione, proprio per garantire un certo sistema di imparzialità nell'uso delle istituzioni. Quindi benvengano tutte le richieste di chiarezza. Il sindaco De Caro ha il dovere, ha il dovere secondo me, non il diritto, ha il dovere di dare tutte le spiegazioni che gli vengono richieste, dalla Commissione Antimafia, da chi vuoi, eccetera, utilizzare sotto il profilo politico le istituzioni, questo non va bene, questo non va assolutamente bene, anche perché siamo in campagna elettorale. Il centrodestra non ha presentato né un candidato né un programma, il loro programma è liberare la città dalla mafia, ci sono i manifesti, liberiamo la mafia, vari dalla mafia. Ecco, questa è un'emergenza, è un tema di campagna elettorale, è stato posto dal centrodestra, i cittadini che non sono stupidi si faranno una loro idea. Assolutamente. Andrea, invece. Vi porto al Bifest, giornata finale sabato, c'è stato l'addio di Felice Laudadio, con una standing ovation di tutti i presenti. Io c'ero, che momento è questo anche per la cultura barese che vede questo cambio? Allora, siccome ci sono sempre le polemiche, quanto ha speso il Bifest, quando ha speso il Bifest, il festival di Bari è costato un decimo forse di quello che costano i festival nelle altre città. Non so se i soldi sono stati spesi bene, male, non mi interessa nemmeno sapere quanto è stata la ricaduta, perché ogni anno io vedo che i ristoratori dicono no, ma poteva essere di più, non è importante. Il Bifest ha segnato un momento di rottura, ci fu una famosa copertina del Time, chi è un po' più avanti con gli anni forse se la ricorda, nella quale il 68 veniva paragonato ad una lametta di rasoio che separava il passato dal futuro. Ecco, il Bifest è la lametta di rasoio che ha tagliato il passato di questa città, ha fatto del nulla sotto il profilo, diciamo, culturale a quei livelli e l'ha portato ad una dimensione nazionale e anche internazionale. È stato bello vedere in tutti questi anni premi Oscar, produttori televisivi, produttori cinematografici, insomma ha sprovincializzato questa città. Quindi a mio avviso il bilancio è altamente positivo. Laudadio, che è uno dei migliori organizzatori di eventi di questo genere, forse in Europa, non è uno, mi auguro soltanto che adesso la sua uscita di scena, che non so fino a quando sia stata voluta da lui oppure sia stato condizionato dall'ecosistema, dalle situazioni contingente, se chiamiamole così, mi auguro che venga sostituito con uno non come lui, ma meglio di lui addirittura, perché non possiamo disperdere il lavoro fatto non solo dall'audadio e dal suo gruppo di lavoro, ma direi anche da tutta la città, perché tutto il sistema ha funzionato, a cominciare veramente dai bar, dai ristoranti, dagli alberghi che hanno comunque sostenuto questa iniziativa. Ha comunque detto che questo è un passo indietro, ci sarà un po' più nel dietro le quinte a seguire il nuovo direttore. Grazie a Domenico Castellaneta di essere stato qui con noi per questa prima parte di Telebari Social Light. Qualche minuto e ritorneremo con Andrea, con l'avvocato Michele Laforgia. A fra poco.